Cassola. Con l'arrivo delle festività natalizie l'amministrazione comunale ha intensificato i pattugliamenti serali da parte della polizia locale. Un servizio extra di sorveglianza al fine di prevenire furti o rapine. L'attività straordinaria si concentrerà soprattutto nella fascia preserale, l'orario più critico soprattutto per le attività economiche. L'attività straordinaria di controllo proseguirà fino all'epifania. Solagna. Tragedia nella casa di riposo dove nei giorni scorsi un ospite ha perso la vita soffocato da un pezzo di panettone. La scoperta è stata fatta dal compagno di stanza che l'ha trovato esanime sul pavimento. Tempestivi soccorsi ma per il 61enne, ex coltivatore originario di Marostica, che da anni soffriva di gravi problemi di salute, non c'è stato nulla da fare. Pare che il dolce non sia stato servito dalla casa di riposo ma da qualche visitatore. Bassano. Le patronesse dell'Associazione Nazionale del Fante Federazione di Vicenza hanno realizzato il calendario 2019 a scopo benefico. La componente femminile del sodalizio si è messa in gioco con 15 foto che ritraggono le volontarie durante le loro attività in momenti ludici o ufficiali. Nella provincia di Vicenza sono iscritte circa 400 patronesse molto attive nel sociale. Il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto in beneficenza a realtà del volontariato del vicentino.